Per la prima volta dalla nascita di Asia, a distanza di 14 anni, il Comune approva lo schema di contratto che regolamenta il rapporto dell'ente con l'azienda di igiene urbana. Votato all'unanimità dei presenti al termine di una lunga seduta di Consiglio Comunale, il contratto, ha sottolineato il Vice Sindaco Sodano, regolerà lo svolgimento delle attività per la raccolta dei rifiuti, individuando i punti deboli dell'azienda sui quali intervenire. Oltre alla definizione dei compiti di Asia, il Comune potrà effettuare verifiche e controlli sul lavoro svolto. In pochi mesi sarà inoltre messa a punto la carta dei servizi per i cittadini e varato il piano industriale per la pianificazione degli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi. È un grande risultato perché si dà stabilità all'azienda, certezza di finanziamenti, si riprendono gli investimenti, Asia può avere un rapporto più forte con le banche, entriamo in quella fase seconda strutturale dove si esce dall'emergenza, si rafforza lo spazzamento, si possono acquistare macchine, si va verso gli impianti di compostaggio. È un momento molto importante e si conferma la scelta di un'azienda pubblica. Questa è un'altra cosa importante, quindi basta le infiltrazioni esterne, basta i subappalti, basta la logica dell'emergenza, una risposta forte e questa amministrazione crede nelle proprie risorse e nella propria capacità di raggiungere i risultati.